Cento merli per coda è il romanzo di Gianni Di Claudio, edito da Carabba e presentato al pubblico nel calendario di incontri a tu per tu con l'autore nella libreria Copp del centro d'Abruzzo a San Giovanni Tietino. Un romanzo corale in cui i personaggi che popolano una valle dell'entroterra abruzzese raccontano l'insediamento e il declino di un'intera comunità contadina con l'arrivo del progresso e della modernità pronti a spazzare le certezze di un mondo che fino al sopraggiungere prepotente e inevitabile della storia si pensava chiuso e bastante a se stesso nella sincerità genuina di tradizioni secolari. Ma c'è la mia infanzia perché poi io fino all'età di dieci anni grossomodo sono stato calato proprio in questa realtà perché poi gli obblighi scolastici mi hanno portato lontano però è continuato dentro di me il racconto attraverso le narrazioni dei miei nonni, miei zii, sin da piccolo ero affascinato dalle faure, quello che si dice che raccontavano le nonne e le balie accanto al letto degli infanti, io sono stato ferito da questi racconti indelebilmente perché poi ne sono ancora vittime, mi ricordo ancora con nostalgia queste parole sussurrate finché non prendevi sonno e il sogno continuava il racconto della nonna poi in realtà. Cento merli per coda perché è questo titolo? Cento merli per coda perché suggerito da mia madre senza volere perché lei non sapeva cosa ne volessi fare, era un suo modo di dire per dire che lei era indaffarata e che comunque non aveva tempo da perdere per le altre cose perché aveva cento cose per le mani e cento merli, che poi la realtà della vita ci insegna che poi i merli scappano, volano via perché le piume della coda si stacca e il merlo vola via lasciandoci un pugno di piume, ecco la vita è un po' questa, questa frase è un po' la metafora della vita, noi inseguiamo i nostri sogni, le nostre aspirazioni, poi tutto rischia un po' di frantumarsi, è difficile acchiappare veramente uno di questi cento merli, sarebbe già un gran successo insomma. Grazie. 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 Grazie.